Una tragedia ha sconvolto il pomeriggio di Casciavo, la frazione alle porte di Cascina in provincia di Pisa. Poco dopo pranzo un bambino di appena 11 anni ha perso la vita a causa di un colpo esploso da una pistola custodita in casa. L'arma, secondo le prime ricostruzioni, apparterebbe al padre, carabiniere in servizio presso il comando di Livorno. Pochi fatti certi in una dinamica ancora tutta da chiarire e sulla quale sta indagando il comando provinciale di Pisa, coadiuvati dal reparto della scientifica. Il colpo sarebbe stato esploso dal bambino stesso, che in qualche modo avrebbe avuto accesso alla pistola, che era con tutta probabilità carica, con il colpo in canna. Sarebbe stato lui stesso quindi a far partire il colpo fatale. Il bambino, figlio unico, non era solo in casa. I genitori sono accorsi nel momento in cui hanno sentito la detonazione. Erano da poco passate le 13.30. Hanno chiamato loro stessi i soccorsi, che sono intervenuti in pochissimo tempo per l'undicenne, però non c'era più niente da fare. Ecco, il corpo del bambino è stato appena portato via, la PM è ancora dentro, così come gli altri agenti, per continuare le molte indagini ancora da fare, per chiarire i moltissimi punti oscuri di questa immane tragedia. L'unica cosa che si può dire certa al momento che è morto un bambino di 11 anni. Sul posto, per tutto il pomeriggio, si sono succeduti alcuni parenti della famiglia e molti rappresentanti dello Stato, il medico legale e il PM di turno. Il corpo del bambino è stato portato al reparto di medicina legale dell'ospedale Pisano per effettuare l'autopsia, mentre arma e vestiti sono stati repertati e portati via dalla casa. Bocche cucite da parte degli inquirenti. Le poche parole che filtrano parlano di indagini in corso a tutto tondo. Nessuna possibilità viene esclusa. Gli agenti del comando Pisano hanno raccolto le testimonianze dei vicini presenti al momento dello sparo.